Giulia Delellis e Tony F, spunta la prima foto social di coppia Mancava l'ufficialità e, seppur senza dirlo in modo esplicito, anche questa volta, possiamo comunque ritenere che Tony F e Giulia Delellis stiano insieme Il motivo? Una foto di coppia pubblicata dal trapper sul suo profilo Instagram Basterà una foto per confermare ulteriormente il flirt in corso tra Tony F e Giulia Delellis? Secondo il settimanale nuovo, i due avrebbero persino iniziato una convivenza Una cosa è certa. Entrambi si sono detti felici. Lei, lo ha confessato in una intervista a Cosmopolitan svelando di non avere più il cuore solo Lui, con la didascalia al post Instagram in cui scrive, è stata un'estate bellissima Vi ringrazio tutti, ora si torna al lavoro. Ci vediamo ad ottobre a Roma e Milano per i miei primi palazzetti Il trapper ha pubblicato un carosello con gli scatti della sua estate Oltre alle foto con Emma e Gaia, una è dedicata esclusivamente a Giulia Delellis In tanti, tra i commenti, hanno evidenziato il sorriso sognante dell'influencer ed in tanti hanno invidiato il fatto che sia riuscita a fare breccia nel cuore di Tony F A questo punto, dunque, dopo le numerose voci che vanno avanti ormai da settimane, possiamo ritenere ufficializzata la nuova coppia del gossip